Ciao a tutti ragazzi, sono di Dina99 e questo è sempre il solito clip, vabbè, prima della sigla Allora, sono qui questa volta, in questo clip, per dirvi non mi dite se... cioè, c'è chi mi ha detto non li carichi più i video io i video li carico, ma adesso con la scuola li potrò caricare solamente sabato e domenica quindi avrò... sicuramente caricherò due video a settimana se riesco, vedo se riesco a ricaricarne più di due, tre massimo, ma quattro non credo proprio perché ci vuole molta organizzazione per fare i video voi sapete che mi devo pure fare tutte le invenzioni che mi devo inventare tutte sempre, ogni volta, una cosa nuova per la sigla quindi io non posso farla sempre uguale, la sigla quindi che vi devo dire? Guardate, la sigla è andata a fanculo la sigla è andata a fanculo Ciao ragazzi, sono Dediano99 e sono qui con questa nuova texture pack che come al solito me l'ha consigliato il mio iscritto. Questa texture pack molti di voi la conosceranno perché è utilizzata da Luke4316 nei suoi video, soprattutto nel video degli ultimi che ha fatto della tech pack mistocraft. Cominciamo con l'illustrazione. A mio parere questa texture pack è ottima perché anche se essendo una 64x64 è definita, molto ben definita, e illustra ciò che è Minecraft solo che da un punto di vista con una grafica più avanzata. Allora cominciamo, questa è la pietra, questa è l'erba, l'erba, il pietrisco, il legno, i veri tipi di legno, roccia madre, la sabbia, la ghiaia, che è carina, l'oro, il ferro, il carbone, i vari tipi di legna, di legna, di legna. Mi sono dimenticato di dirvi prima di tutto che questa texture pack si chiama Faithful e me l'ha consigliata, insieme alla Bordercraft, me l'ha consigliata Tease, Shom, una cosa del genere. Allora, la spugna, il vetro, i lapislazuli grezzo, lapislazuli, arenaria, arenaria liscia, i vari tipi di lana, che non finiscono mai, l'oro, ferro, le lastre di pietra, lastra di arenaria, lastra di pietrisco, lastra di mattoni, lastra di mattoni di pietra, mattoni, librerie, pietrisco muscoso, ossidiana, scalini di legno, diamante grezzo, blocco di diamante, scalini di pietrisco, blocco di pietra rossa, ghiaccio, neve, ghiaia, zucca, netherrack, sabbia delle anime, che si vedono proprio le faccine, qualche perché carine le faccine, la vetraluce, la gecko lantern, i vari blocchi di pietra, blocchi di pietra rotondo, rotondo, quadrato, l'anguria, gli scalini di mattoni, scalini di mattoni di pietra, micelio, gli scalini del nether, la pietra del nether, il lastre di legno, gli scalini di arenaria, gli scalini di legna di giungla, gli scalini di legna, eccetera eccetera, gli alberelli, i vari tipi di foglie, la ragnatela, che è perfettamente rotonda, l'erba, la felce, i fiori, il rametto là, il coso, i funghi, le torce, l'inventario, le casse, doppie casse, il banco di lavoro, la fornace, le scale, i pioli, il cactus, i jukebox, le staccionate, le sbarre di ferro, i pannelli di vetro, le rampicanti, le staccionate del nether, il banco degli incantesimi, i cosi del land, i cosi del land è una cosa molto l'ender frame, il bolle del lander, la galleria d'arte di diadriano 99, e questi quadri sono, come posso dire, semplici, ma nel senso che sono uguali a quelli originali, solo che sono aumentati di definizione, quindi a mio parere sono molto carini, tranne questo qua di Donkey Kong, che veramente dall'eternità, da quando l'ho visto per la prima volta, mi è sempre stato sul cazzo, perché poi Donkey Kong non è rossa, Donkey Kong è marrone. Allora, il cartello, il letto, il distributore, il blocco sonoro, Pistone appiccicoso, il pistone, TNT, il pedano a pressione, la torcia di pietra rossa, la pietra, le lampade di pietra luce, le botole, il cancelletto, il gancio di filo detonante, la porta, la porta di ferro, la pietra rossa, il ripetitore di pietra rossa, le ferrovie là, quelle che cavolo sono, il banco, il carrello da miniera, la barca che sta sulla terraferma, aspetta, ops, non fa niente, perfetto, il carrello da miniera con cassa, la lava, che è simile a quella di Bordercraft, almeno questo sarà un mio parere, l'acqua, che è molto bella, il fuoco, lo smeraldo e lo smeraldo grezzo. Passiamo ai mob, e spero di trovare tante sorprese. Ecco qua i mob, allora, il pesciolino d'argento, mi sembra che sia uguale a quello della The Fall, il ragno delle caverne, che carino! Il... questo l'ho già fatto vedere, il Blades, che figata bestiale, madonna santa! Il... non mi scassare le palle! Scusate un attimo! Ecco! Cubo di magma, che carino! E' quello normale! Uffa! Il Creeper, che figata! E' migliorato, anche le unghie ai piedi questa volta! Il Ghost! Aspetta che ti seguo, volevo farti vedere la faccia! Ecco, ha la faccia più o meno uguale! Il Pigman Zombie! Bellissimo! Lo zombie, che sta bruciando! Per una delle caverne, il pesciolino d'argento, questo cos'è? La pecora! Ecco la peca! Adesso passiamo ai mob pacifici! Allora, cominciamo con la mucca! I mob sono tutti più o meno uguali, solo che sono migliorate le... la definizione! Il Calamaro! Fatti vedere in faccia! Fatti vedere in faccia! Cazzo, fatti vedere in... Vabbè! Il lupo! Che se l'attacco si incazza! ma c'è un carino quando si incazza! Beh, che c'è a tenere di sfidare! E mi... Ops, ho messo a pausa! Volevo mettere il P5! E che a tenere di sfidare? Mi vuoi sfidare? Mi vuoi sfidare? Eh, mi sono invincibile che a te cagnolino che a te! Allora, Mushroom, figata bestiale, l'Ossalot, il carino l'Ossalot mi sa che uguale a quello normale. Sì, l'Ossalot uguale a quello normale. Il villico, i villici tutti colorati. Ma un villico normale marrone non mi esce? Ah, ecco, finalmente! Maiale, e la pecorella che avete già visto. Adesso però proviamo questa texture pack su Merdaville per vedere come viene con tutti gli oggetti abbinati e con le costruzioni. Allora, il planetario... Vabbè, non... La torre viene piuttosto carina. È una figata, eh. Questa ritorna più o meno uguale. Questo qua. Qua ci sono una marea di villici. LOL! I mattoni nel Nether tutti insieme sono una gran figata. Sembrano una cosa super piatta. La montagnetta di terra. Il meteorite... Cos'altro vi posso far vedere... Il laghetto. Il laghetto, il laghetto... Vabbè. La casetta di legno. Il centro metropolitano. Che naturalmente ve lo farò vedere nelle prossime puntate che è una mia nuova costruzione. Diciamo che questo è tutto. Questo è tutto da TheDirano99. Come sempre vi metto il link in descrizione. Se avete qualche texture pack, qualche mod che mi volete fare... Anzi, mod no, perché io sinceramente non riesco mai a scaricarmi le mod, giuro. Mi crascia sempre Minecraft. Se avete qualche modo da farmi recensire io ve la recensisco. Qualche texture pack. Se avete qualche adventure map io ve la recensisco. Chiedetemelo. Vi metto il link in descrizione. È molto carina. Ve la consiglio. Non fa lagare perché è 64x64. Ed è molto somigliante a quella della realtà. Sarebbe una cosa buona per chi specialmente vorrebbe usare una texture pack che vuole incorporare semplicemente il miglioramento della grafica di Minecraft 32 e per 32. Questo è tutto. Ciao a tutti. Doi dia di 199.